A breve ad Agropoli saranno riattivati servizi nido, micronido e spazio bambini e bambine. Il piano di zona ambito S8 ha indetto un avviso pubblico per l'individuazione dell'utenza da inserire per l'anno scolastico 2020-2021 nei diversi comuni, che attiveranno i servizi in questione. Il servizio nido micronido ha natura educativa e sociale e si rivolge ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Prevede la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli, esso garantisce l'accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive di prima alfabetizzazione. Sono previsti 20 bambini frequentanti, il servizio viene assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16 e avrà durata di 8 mesi. Il servizio spazio bambini e bambine invece accoglie bambini e bambini e dai primi mesi di vita offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile. Sono previsti 15 bambini frequentanti, il servizio è assicurato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e avrà durata di 8 mesi. L'avviso con i requisiti per partecipare e la domanda di adesione sono disponibili sul sito web istituzionale del comune di Agropoli e del piano di zona ambito S8. La scadenza per la presentazione delle adesioni è fissata per le ore 13 del 29 settembre 2020. A breve, affermano il sindaco Coppola e l'assessore alle politiche sociali, Vanna D'Arienzo, ripartono due servizi molto importanti e tanto apprezzati dall'utenza. Costituiscono uno strumento importante di socializzazione ma anche un grosso aiuto per i genitori che lavorano, i quali possono affidare i propri figli in un luogo sicuro e con operatori qualificati.